Il comune di Fano ha vietato i botti a Capodanno, cosa ne pensi? Niente di che? Con botti e senza botti? Vabbè ma si potevano anche fare, non è che è una cosa eccezionale, voglio dire Giusto, rispetto di animali, di bimbi, di cose Sono d'accordo Botti free a Fano Niente botti Il comune di Fano non vuole i botti a Capodanno, perché dice che per gli animali, cosa ne pensa? Forse risparmiare fa bene Risparmiare? Perché che botto in meno, più ciccia, a tavola è meglio Esatto Contenti? Contenti sì Meglio sì Meglio, noi siamo un po' più lontani dal centro però Però comunque Abbagliano quando si spaventano Meglio senza Meglio sì E sempre Capodanno comunque È uguale, non cambia niente però è meglio senza Ottimo Ottimo Ottima idea Lui sarà contento? Certo, sicuramente Ma comunque è un Capodanno uguale anche senza botti? Anche senza botti Cominciamo già ad abituarci perché non è il primo anno Anche anni dietro sono stati fatti pochi botti Botti sì, botti no è uguale secondo lei? No, è meglio non farli È meglio non farli Soprattutto se si fanno bisogna farli quelli modesti Ecco Non roba grossa Il comune di Fano ha vietato i botti a Capodanno Proprio per il rispetto dei animali Cosa ne pensi? Guardi, sono perfettamente d'accordo Ma poi perché c'è da poco tempo l'animale Quindi da tre mesi è stato regalo più bello Tutto al più adesso siccome viviamo in simbiosi con il cane Non lo so, magari si devono trovare le misure giuste Sia per gli animali che per i loro padroni Signora Colcane, il comune di Fano niente botti a Capodanno Proprio per gli animali Va benissimo Va benissimo rispetto Ormai da un po' di anni, va bene insomma Grazie, sì Va bene Va bene Sì Quindi meglio insomma Insomma i botti perché soprattutto si rovinano I ragazzi non si correggono È brutto quello Perché se no Quindi anche senza botti è sempre Capodanno È sempre Capodanno